Salve a tutti, buonasera, vi do il benvenuto dal Relay Falconiere di Cortona e volevo ringraziarvi semplicemente, un ringraziamento per tutto l'impegno che avete messo nel sostenerci in quest'anno così difficile per tutti noi, un anno che nessuno di noi avrebbe potuto prevedere. Nonostante questo, il vostro, il nostro impegno, la nostra collaborazione ha fatto sì che abbiamo potuto vivere, sopravvivere e soprattutto dare il benvenuto a tanti nostri e vostri clienti che hanno dimenticato per qualche giorno la terribile situazione che stiamo vivendo. Io spero che la nostra collaborazione sia di soddisfazione per entrambe, come lo è stato per noi e anche per voi e spero che il 2021 sia una grande annata per tutti noi. Grazie.